Allora vediamo Gianchiello fare un po' di spesa Questo riprende qualsiasi cosa Questo ragazzo riprende qualsiasi cosa Quando faccio benzina, quando ando ad acquistare le cose No, perché? Vogliamo dire il perché? Che è uno stalker No, cosa che fa? Quando sto vicino alla benzina, mi aspetta la benzina A me non viene col telefono Ma se lo vantano a prendere No, è perché lui Invece di prendere la benzina vera Prende la benzina falsa No, 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 lui ruba Non devi urlare perché ti devo denunciare per distruggire la cueta No Specialmente quando sto con la bomba in mano Con la bomba? Con la bomba in mano Ah, con la bomba No, sì, vabbè, sì Vabbè, dai, ora stringi Sì Saluta Ok Ok, ciao Luca Un car che ti segue? Mi sto rubando nel burro Anche qua, aspetta Sì Ok 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 Non puoi dire anche il king Di pingui Ti sei occupato L'ho messo nel carrello Ah, il cocco Hai capito Vedi quella ricotta? Si chiama ricotta di capra È la tua ricotta Eh, perché? Sei una capra Cioè, perché io sono una capra? Sì Eh, perché sono una capra? Faccio la chiedita di due polmi Eh, sì, aspetta però Cioè, mi sono fatto anche il capello Mi sono rasato Per te, per te Per te Yeah Per Samy Eh, bravo, bravo, bravo Senti, ma siccome tu sei un personaggio Perché non passi direttamente avanti Eh, no È un balotto Vabbè, ma Ma tu sei un personaggio? Tu sei un personaggio Io no A domani Io sei un personaggio A cui dovresti rispettare E far rispettare E dare l'esempio Quindi aspetta il tuo turno Nel caso fosse realmente Vabbè, ma Ma i personaggi passano avanti Perché se uscire E mi chiede Ah, e io? Deve essere umile Comunque Ah, umile Ah, ok Deve essere sempre umile Ok, grazie Deve sapere la disagenza